Allerta! Richiesti agenti per sedare una rimonta. Convergere nell'Ist Visage. Yuri, ho trovato una banda di evasi da Riker. Sembra che si siano stabiliti qui. Manderò una squadra, ma vista la situazione, radunare uomini sufficienti potrebbe richiedere tempo. Non oso immaginare cosa combinerebbero nell'attesa. Ci penso io. Non russare ora. Fa una pausa. Grazie a tutti. 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 All'attacco, vecchiavolo! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.